Senso De Luca, Presidente della Regione Campania, deve voler raggiungere il palco per le conclusioni di questo convegno. Grazie Presidente. Grazie, grazie a voi. È una giornata importante per i sanni o per noi, per la Regione. Abbiamo concluso una mattinata davvero importante con il varo di alcune opere stradali e concludiamo qui a Benevento con la presentazione di un progetto strategico della nostra Regione. Il Rettore, nel portare il suo saluto, ci ha detto che la crisi drammatica che abbiamo avuto in questi mesi, in Italia, nel mondo, dovrebbe riorientare le logiche dello sviluppo. Noi stiamo cercando di fare esattamente questo in Campania, riorientare le logiche di sviluppo, dare davvero concretezza e non ideologismo ad una riconversione ecologica dell'economia e dei sistemi produttivi dei nostri territori, valorizzare risorse energetiche, rendere quanto più possibile autonomo da questo punto di vista il nostro Paese e fare insieme opere, trasformazione urbana, infrastrutture, ma anche valorizzazione della natura, dell'ambiente e delle prospettive turistiche legate a questa valorizzazione. È una grande sfida che intendiamo affrontare e vincere, superando elementi di ideologismo che abbiamo scontato nel nostro Paese, ogni qualvolta si parlava di ambiente, ma dimostrando in concreto che la cura dell'ambiente e la valorizzazione dell'ambiente può davvero diventare un volano per lo sviluppo dei territori. La prospettiva che vogliamo indicare ai nostri concittadini è questa. La Campania vuole dare vita, cominciando dai prossimi mesi, ad un sistema economico locale all'avanguardia in Italia, che significa un'idea di sviluppo con le caratteristiche che ho ricordato adesso, ma anche una regione in grado di produrre una crescita economica, un aumento di PIL il più avanzato d'Italia. Sto raccontando in queste ore, per rendere un esempio più chiaro del ragionamento che stiamo facendo, quello che è in alcuni Paesi d'Europa il destino di alcune regioni, a conferma del fatto che, con buona pace della mondializzazione dei processi, ci possono essere sistemi economici locali con loro dinamiche autonome e un loro dinamismo proprio. Ho ricordato in queste ore la vicenda della Baviera nella Germania federale. La Baviera è una regione del sud, è una regione interna, è una regione che riesce a coniugare una industria di assoluta eccellenza sul piano delle tecnologie e dell'innovazione con una grande, forte, fortissima agricoltura e con una valorizzazione delle risorse ambientali straordinarie. Guardiamo a questo modello o ad altri modelli di sviluppo regionale che possono essere un'indicazione per la Campania. Noi abbiamo affrontato in questi mesi l'emergenza Covid, dimostrando all'Italia che la regione Campania di oggi è in grado di affrontare la sfida dell'efficienza nei confronti di chiunque. Clemente Mastella ricordava prima alcuni dati che riguardano l'epidemia della Campania. La Campania è la regione d'Italia che ha retto meglio di tutte l'epidemia. Noi abbiamo avuto in Campania un quarto dei decessi del Veneto, che è la regione che ha retto meglio al nord, meno di un quarto dei contagi e questo avendo quasi un milione di abitanti in più del Veneto, avendo come dotazione finanziaria del piano sanitario nazionale 45 euro pro capite in meno rispetto alla regione Veneto, ed avendo avuto per tutto il mese di marzo le briciole nei dispositivi di sicurezza che arrivavano in Italia e che per il 90% sono stati orientati giustamente nella prima fase, ingiustamente nella fase finale, verso Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte. In queste condizioni, ed essendo usciti dal commissariamento sanitario da appena due mesi, la regione Campania è stata in grado di produrre un risultato che, visto oggi, è un miracolo, perché in Campania potevamo avere una ecatombe di morti se non avessimo avuto il coraggio di fare le scelte che abbiamo fatto. Poi le parole sono le parole, i risultati sono questi, un quarto dei decessi e dei contagi che hanno avuto le regioni più virtuose. La Lombardia, per darvi un dato emblematico, ha avuto in una sola provincia, la provincia di Bergamo, duemila morti nelle strutture per anziani, una sola provincia. Tutta la regione Campania ha registrato 14 decessi in 99 strutture per anziani. Vi sono chiare le proporzioni di quello che è successo lì e di quello che è successo da noi. Ricordo questo dato per dire che abbiamo oggi le condizioni, il livello organizzativo e, mi permetto di dire, il livello di efficienza che ci consente di mettere in piedi in maniera credibile un piano di rilancio economico e di sviluppo della nostra regione di livello europeo e all'avanguardia in Italia. Noi dobbiamo fare uno sforzo in più su un piano che è quello della sburocratizzazione. Devo dirvi che abbiamo programmato di dedicare il 2020 alle riforme urbanistiche e ad una fase di radicale sburocratizzazione delle procedure. Ovviamente siamo stati concentrati sull'epidemia, ma abbiamo cominciato già ieri, nel Consiglio regionale ieri, ad avviare una sburocratizzazione radicale. Già da ieri il 70% dei permessi delle pratiche e delle autorizzazioni che venivano richiesti dagli uffici del Genio Civile sono stati eliminati. Proseguiremo a partire da ieri con un lavoro di sburocratizzazione radicale. Queste opere, se vogliamo farle, dobbiamo farle in un contesto di semplificazione davvero eccezionale. Noi procederemo in questa direzione. Lo faremo per quello che riguarda la regione, faremo per quanto riguarda i settori economici altre scelte, proporremo, c'è una proposta di legge fatta da alcuni parlamentari qualche settimana fa, proporremo al Governo nazionale di fare della Campania e, se si vuole, del Sud, quello che è oggi l'Olanda, cioè un luogo nel quale chi investe non paga nulla. Non ci sia nessuna tassazione sugli utili d'impresa almeno per dieci anni. È inutile protestare contro l'Olanda. Facciamo noi nel Sud quello che ha fatto l'Olanda. Defiscalizzazione di tutti gli investimenti, detassazione di tutti gli utili d'impresa per dieci anni. Chi viene ad investire in Campania deve sapere che questo è un luogo nel quale i profitti possono avere una massimizzazione. A noi basta avere l'occupazione. Già questo è un bilancio straordinario per una regione come la Campania. Da oggi in poi la priorità è il lavoro. Allora, noi in Campania, e mi avvio rapidamente a concludere, abbiamo affrontato alcune questioni di contesto per realizzare questo progetto di sviluppo. Abbiamo cominciato a dare ordine alle istituzioni di governo dell'acqua e dei rifiuti solidi urbani. Partivamo da zero, dottoressa Corbelli, in qualche caso da sotto zero. Abbiamo approvato un piano per la gestione dei rifiuti solidi urbani che non esisteva in Campania. Lo abbiamo fatto nei termini ambientalmente più sostenibili. Abbiamo rifiutato l'ipotesi di altri tre o quattro termovalorizzatori proposti da un esponente politico, l'anzichenecco di Milano, che ogni tanto viene in Campania a offendere i meridionali, tanto per non perdere il vizio. Nessun nuovo termovalorizzatore. Proponiamo di realizzare 15 impianti di compostaggio, di eliminare le coballe. Abbiamo completato il lavoro di bonifica delle discariche. oggi siamo in condizione di dare una gestione corretta e dal punto di vista ambientale la più avanzata d'Italia e fra i più avanzati d'Europa nella gestione del ciclo dei rifiuti urbani e industriali. Ciclo delle acque. Abbiamo messo ordini, abbiamo costituito gli enti di gestione delle risorse idriche coinvolgendo i comuni, come prevedono le norme nazionali. Oggi abbiamo la normativa di contesto che ci consente di lanciare un'idea di sviluppo ambientalmente sostenibile nel nostro territorio. Io sono convinto che possiamo creare in Campania un miracolo economico della stessa qualità e intensità del miracolo economico che abbiamo avuto nel dopoguerra. Sono assolutamente convinto. Se completiamo il programma di sburocratizzazione radicale e se ci mettiamo in condizione, sperando ovviamente che anche il Governo nazionale faccia la sua parte, di contare su una sburocratizzazione di norme relative al codice degli appalti che in qualche caso sono demenziali e anche ad innovare cose importanti per quanto riguarda il sistema della giustizia e ad alcune figure di reato che sono altrettanto demenziali, come quella dell'abuso di nato ufficio che non distingue il piano penale dal piano amministrativo. Se abbiamo anche questa evoluzione nazionale, la Campania può volare. Allora, noi ipotizziamo di utilizzare risorse imponenti. Il nuovo ciclo di programmazione parte fra quattro mesi, gennaio del 2021. Risorse dunque europee, risorse cipe, risorse della regione. Abbiamo risanato dopo decenni il bilancio della regione Campania che dallo scorso anno è in equilibrio. Le agenzie di rating addanno alla Campania un outlook più avanzato del Governo nazionale. Il nostro outlook è positivo. Abbiamo dunque la possibilità di utilizzare risorse imponenti in una condizione di equilibrio e bilancio e di utilizzare anche risorse private in progetti di finanza, in masterplan che stiamo cercando di definire, in ipotesi di sviluppo pubblico privato che sono di grande interesse anche per gli investitori privati. La diga di Campolattaro è collocata dentro questa idea di sviluppo innovativo della regione Campania, che prevede un riequilibrio fra fascia costiera e aree interne, che prevede una connessione stretta fra ricerca scientifica, sistemi universitari e innovazione rivolta alle produzioni, che prevede un uso massiccio e razionale delle risorse agricole, soprattutto in territori come quello benementano, che per esempio in alcuni settori rappresentano la metà delle produzioni campane, penso al settore vitivinicolo, per il quale il sannio produce la metà delle risorse campane. Insieme con l'Irpinia siamo a più del 70% della produzione vitivinicola. Questa diga ci serve a economizzare le risorse energetiche, a immaginare uno sviluppo compatibile con l'ambiente, a dotare le aree interne, stamattina le strade, poi le ferrovie, poi l'alta capacità, adesso le risorse idriche, a immaginare uno sviluppo fondato su una qualità delle infrastrutture di livello superiore, ma anche su una idea di tutela dell'ambiente, ripeto non ideologica, ma assolutamente funzionale alla creazione di lavoro e ricchezza. È un progetto bellissimo. Siamo partiti 50 anni fa, ma noi siamo un paese nel quale approfondiamo bene le cose. Poi non andiamo di fretta, siamo la Magna Grecia, abbiamo dei tempi lunghi, mica siamo come i milanesi, vanno sempre di fretta, poi magari si dimenticano di dividere le corsie degli ospedali fra Covid e non Covid. L'obiettivo è duplice, risolvere la crisi idrica, avere forniture di acqua potabile tali da dare tranquillità ai nostri territori. Dottoressa Corbelli, vediamovi di lavorare anche per un riequilibrio. Voi avete visto delle diapositive. Tutti i vettori avevano un'unica direzione, la Puglia. Noi ci sentiamo fratelli dei nostri amici pugliesi, ci sentiamo parte non dei neoborbonici, ma insomma di una realtà statuale meridionale che ha inventato lo Stato. La forma statuale è stata inventata nel Sud. Siamo lieti di essere la terra delle Costituzioni, i Melfi. Il Sud ha proposto all'Occidente la prima idea di statualità e quindi siamo vicini anche per questo agli amici della Puglia. Però nell'uso delle risorse non ci siamo. Era stato addirittura fatto un tentativo, credo due anni fa, di una iniziativa legislativa che avrebbe trasferito il monopolio nella gestione delle acque campane all'acqueoto pugliesi. Amici, amici, fratelli, fratelli, confratelli perfino, ma in un rapporto fraternamente equilibrato. Non possiamo più avere il paradosso che abbiamo comuni dell'Irpinia che arrivano in estate senza acqua e fiumi di acqua che arrivano in altre parti d'Italia. Comprendono tutti quanti che questo è un paradosso che diventa francamente intollerabile. Allora, per l'amor di Dio, grande solidarietà, grande amicizia e cordialità nei confronti di tutti, a cominciare dai nostri amici pugliesi, ma è del tutto evidente che dobbiamo andare verso un riequilibrio, anche finanziario, nella gestione delle risorse idriche in maniera tale da garantire in maniera seria, serena, le forniture idriche a tutti i territori del sud, ma senza depauperare aree del nord, aree della regione Campania che hanno anche il sacrosanto diritto di avere un ristoro per i comuni che sono tributari anche di risorsa idrica. Dunque, primo obiettivo, garantire l'acqua potabile a tutti i nostri concittadini. L'idea che dobbiamo avere l'acqua dal Molise, poi dal Lazio e poi l'acqua che ci arriva da lì, mandarla da altre parti, mi pare anche una cosa bizzarra, sinceramente. Possiamo diventare pienamente autonomi nella gestione della risorsa idrica e liberarci dell'angoscia ogni estate in relazione all'acqua che c'è o non c'è, cosa essenziale anche ovviamente per un decollo turistico di questo territorio. Secondo obiettivo, sentivamo l'ingegnere Vacca, 15.000 ettari di terreno agricolo da irrigare in maniera tranquilla. I consorsi possono lavorare con serenità? Garantire l'irrigazione a 15.000 ettari di terreno fertilissimo che abbiamo in queste zone è un'altra carta per lo sviluppo di tutta la campagna, perché veramente qui abbiamo una miniera d'oro con un'agricoltura di qualità. Lasciamo perdere questi mesi, avremo dei colpi anche per quanto riguarda ovviamente le produzioni vinicole, ma abbiamo davanti una prospettiva davvero straordinaria, abbiamo avuto le città del vino, abbiamo avuto riconoscimenti europei non più di un anno fa, insomma, abbiamo veramente davanti a noi uno scenario di grande interesse. E dunque completata la rete, l'alta capacità, l'alta velocità, completate le reti stradali, completato il sistema di banda larga, la più avanzata possibile, completato il sistema di gestione integrata e strutturale di acqua e ciclo dei rifiuti, beh, noi abbiamo creato le precondizioni davvero per un decollo economico definitivo di questi territori. Aggiungo solo e finisco l'attenzione che ci stiamo mettendo per le giovani generazioni. Quando dico il prossimo obiettivo è il lavoro, abbiamo parato un concorso per 10.000 giovani da occupare in Campania e i primi 2.500 vanno a lavorare nel mese luglio, presso 150 comuni. Continueremo così. Dobbiamo investire un miliardo e tre nell'edilizia ospedaliera. Risorse che abbiamo recuperato avendo risanato i bilanci e chiuso il commissariamento. Abbiamo davvero davanti a noi una pagina straordinaria. Allora, questo è il senso dell'incontro di questa mattina. Veramente siamo in condizione di aprire una pagina straordinaria per lo sviluppo dei territori interni, dell'area sannitica, della regione Campania. Stateci vicino, noi seguiremo con tutta l'attenzione necessaria questi grandi progetti. non dobbiamo fare in modo che i finanziamenti si fermino per strada, perché l'Italia è un paese curioso. Quindi terremo gli occhi aperti perché questi 400 milioni di euro arrivino. Ci metteremo del nostro, ovviamente. Nel ciclo di programmazione 21-27 la regione garantirà comunque la copertura finanziaria. Abbiamo deciso di fare la Liga di Napoletà e la faremo costi quel che costi. Però, se anche i lanzichenecchi ci mettono un po' di soldi, non fanno male e fanno la metà del loro dovere. Auguri a tutti, a voi e alle vostre famiglie. Grazie. 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 Grazie.